Che cos'è lo stress? È veramente sempre negativo? Come possiamo gestirlo? La linea speciale di U-Train ti offre la possibilità di approfondire questo tema e trovare nuovi modi per lavorare sul tuo benessere. Durante il percorso potrai prendere consapevolezza del tuo livello di stress e capirne i suoi effetti, ricevere strumenti pratici per prevenirlo, scoprire nuove strategie per affrontarlo e quindi usarlo al tuo vantaggio. Il tuo stress è causato dalla gestione del tempo, da relazioni difficili, da questioni lavorative? Puoi scegliere anche di approfondire uno, due o tutti e tre questi aspetti per avere ulteriori strumenti. Tutti gli incontri sono live, interattivi e durano 90 minuti. Per conoscere tutti i dettagli trovi il link in descrizione. Ti aspettiamo! Grazie!